Perché i nostri gioielli sono un connubio di tradizione ed innovazione. Perché dalla fantasia, dalla creatività, dalla laboriosità del popolo veneto, scaturisce l'eccellenza del prodotto. Perché culliamo il saper fare italiano. Perché i nostri prodotti rappresentano l'innovazione del made in Italy. Perché il bello e il buono sono due aspetti fondamentali del nostro territorio. Perché i nostri prodotti sono il frutto di una grande tradizione. Ti aspettiamo in fiera per incontrare i sapori e i vini della nostra regione. Saremo circondati dagli splendidi gioielli creati dall'azienda della sezione Orofar Gentiera di Vicenza.